Lega 2 for Business è la prima volta che Lega 2 si presenta ai propri partner e sponsor coinvolgendo le società e coinvolgendo aziende vicine al mondo di Lega 2. In questa giornata abbiamo spaziato sulle nuove tecnologie per far vedere ai nostri partner e sponsor e società quello che sarà il mondo della comunicazione del futuro per dare la possibilità di accedere a nuovi metodi di comunicazione ma non solo, questa è stata solo la prima parte. Nella seconda società e aziende si sono confrontate perché il messaggio che vogliamo portare è un po' diverso. Noi vogliamo dire ai nostri partner, vogliamo chiedere ai nostri partner che cosa possiamo fare noi per loro perché ci scegliano quello che Lega 2 e le società di Lega 2 possono fare per un'azienda per aiutarle a migliorare il proprio business ma non solo, anche le varie aziende si sono incontrate tra di loro per cercare delle sinergie e per trovare modo di collaborare. Questa è solo la prima puntata e ce ne sarà una seconda molto presto.